Come tutto cominciò, l'idea, la visione maturata fino a diventare un vino di punta nel vero senso della parola e hanno cresciuto molti anni fa. Oltre 100 anni di tradizione vitivinicola, esattamente 115 anni della catina di Bolzana lascia tracce, storie e momenti speciali. La prima decisione è stata presa nel 1214, due vini top, cuvesse rosso e bianco. Abbiamo lavorato verso il nuovo obiettivo con i nostri soci, le zone giuste, vitigni giusti, selezionati individualmente. Era necessaria pazienza, passione e energie, esperienze e nuove conoscenze. Ora, dopo quasi 10 anni, siamo soddisfatti del risultato. La premiera di due covets di alta qualità, tale 1908 e tal 1930, due covets con zeitgeist e ho tradotto moderna concezione, un momento giusto con sguardo verso il futuro e tradizione. Il contrasto tra montagna e valle, alpino e mediterraneo, determina il carattere di questi vini speciali. Le uve vengono selezionate secondo i criteri più severi. Sono state prese in considerazione solo le uve migliori delle migliori posizioni. La nuova catina, la nuova qualità, con il principio di gravità confermento al punto più alto e poi la varazione delicata delle uve, ulteriore movimentazione per gravità naturale. I rigorosi principi della viticultura e l'affinamento sono il pre-provisito per la ricchezza del gusto. Tal 1908, un ocuvet di vino rosso con poesia e passione. Il nuovo Tal intende comemorare il 1908 oggi e in futuro, un anno in cui un pugno di viticoltore si stabilì nell'ora della zona di Grias, creando una nuova cantina. La storia è strettamente legata ai tre fiumi. L'influenza più incesiva è il fiume di Tal Talba. Non per niente Bolzano è chiamata anche città del Talba. I viticoltori hanno potuto godere delle antiche esondazioni del fiume di genere città di fertilità. Si tratta di terreni aliviniali sul sottosuolo profilico che costruiscono un'ottima base per vini forti. Includendo l'accurata selezione dei singoli vignetti e strati, questi coccolati dal sole e rinfrescati all'evento del Valle Sarantino, dalla conca di Bolzano e le vigne sottose fino a 50 anni di età e oltre la cui resa assolutamente limitata. Il Tal 1930, la Cuvée del vino bianco. Potenza e eleganza. Questo vino vuole far ricordare all'inizio della cantina Santa Malena fondata nel 1930. Da Santa Malena il sentiero conduce dalla valle in tedesco Tal, si pendì dei vignetti in parte dolci e in parte ripidi vicino a Bolzano, fino al Renon, tanto decantato dai Bolzanini. Le altitudini variano da 400 a 600 metri sul livello del mare. L'irraggiamento particolare solare delle Dolomiti e gli elevati sbalzi termici dal calore estivo e dal forte vento seriale della Valle Sarco, una premiera con più di 100 anni di esperienza contro la cultura dell'uva e clima. Queste Cuvée sono senza dubbio a volte del mistero, il segreto di vini speciali speriamo anche eccezionali. La loro complicità non è una questione di logica. Deve e può essere percepito con tutti i sensi, unisce il misterioso e il definito, la magia del luogo e la chiarezza della cifra stilistica. Ora possono essere assaggiati e goduti. La storia delle nostre Cuvée, 1888 bottiglie di bianco e 2999 bottiglie di rosso è appena iniziata. Il meglio, il nostro meglio. Grazie. Grazie.